Dal primo ottobre sono più care le bollette di gas e luce sia per i clienti del mercato libero sia per quelli del mercato tutelato. Secondo quanto comunicato dall'autorità di regolazione del mercato dell'energia, l'incremento per le energie elettriche è del 7,6% mentre del 6,1% per il gas naturale rispetto alla spesa del terzo trimestre. Per l'elettricità, secondo le stime, la spesa per la famiglia in un anno sarà di 552 euro con una variazione del più 6,1% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente corrispondenti a un aumento di circa 32 euro l'anno. Nello stesso periodo la spesa della famiglia Tipo per la bolletta del gas sarà di circa 1096 euro con una variazione del più 5,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente corrispondenti a circa 61 euro l'anno in più. La DOC Molise, l'associazione regionale dei consumatori, fa sapere inoltre che solo un cittadino su tre con i requisiti necessari, fa richiesta del bonus energia il cui costo è a carico di tutti i consumatori tranne i soggetti agevolati. Sempre l'ADOC a livello nazionale ha richiesto che si realizzi un sistema automatico che attribuisca il bonus energia e gas a chi ne ha diritto senza alcuna domanda, incrociando i dati fiscali. Sono molti i consumatori, infatti è stato spiegato, che non inviano la domanda perché ad esempio non sanno farlo o non sanno che esiste il bonus o addirittura per nascondere uno stato di povertà. Così come è stato possibile inserire nella bolletta della luce il pagamento del canone RAI, ha concluso l'ADOC Molise, può essere allo stesso modo corrisposto il bonus agli aventi diritto. Grazie. 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 Grazie.